Buongiorno, siete da Spiegaci Design Studio in via Borsani 29 ad Avete Grasso. Io sono Marco Pezzi e il mio socio è Flavio Girofli. Buongiorno. Siamo un negozio di arredamento, facciamo progettazioni di arredo grandi e piccoli. Siamo specializzati in tendaggi, carte da parati, divani, imbottiti, poltrone di nostro disegno. La nostra gamma di tessuti è molto vasta e parte da livelli di budget fino ad arrivare alle collezioni internazionali più prestigiose. Fra le collezioni che abbiamo vorrei menzionare alcune case che ci danno la possibilità di spaziare a 360 gradi. Potrebbe essere Designers Guild, Baker, Duraly, la Christian Fishpacker. Oltre ai tessuti abbiamo anche una gamma molto vasta di pelli e di finte pelli che possono soddisfare qualsiasi esigenza e anche qualsiasi borsa. La gamma dei tendaggi che noi possiamo offrire spazia dalla tenda pacchetto, dalla tenda vetro, un tendaggio anche importante, foderato, imbottito. Tutti i trattamenti abbastanza sofisticati e, se vogliamo, anche abbastanza inusuali. Fortunatamente abbiamo alle spalle una ditta importante di imbottiti, la De Stefani Salotti, che ci permette di offrire un prodotto di alta qualità e di alto finissaggio, soprattutto personalizzando sia nelle dimensioni, nel disegno e nelle finiture e tessuti, offrendo un prodotto anche a prezzi di fabbrica. I tavoli, tavolini, tavole basse, comodini, etager, scafalature, armadiature, sono tutte di nostro disegno e produzione. Inoltre possiamo progettare e realizzare boiserie, tesature di tessuto a pareti, varie laccature, moquette, tinteggiatura a pareti. Per quanto concerne i tappeti, noi ci appoggiamo a un grande rivenditore importatore diretto su Milano, per cui col cliente desideriamo in genere andare e selezionare direttamente dal loro grandissimo showroom. Nel nostro negozio, inoltre, potete trovare lampade, accessori, abbiamo objets de vertu, abbiamo anche degli scialli, dei full art dipinti a mano e dei mezzeri. Un servizio importante che noi offriamo ai nostri clienti è una consulenza e un sopralluogo che ci aiuta a comprendere meglio i bisogni del cliente per meglio servirlo. Tutto ciò è assolutamente gratuito, ma ci permette di approfondire le problematiche per poterle risolvere al meglio. Venite a trovarci nel nostro nuovo negozio di Abetegrasso per trovare delle soluzioni idonee ai vostri problemi di arredamento. Grazie a tutti!